La prima Pasqua che l'Arcivescovo di Ferrara e Comacchio, Monsignor Giancarlo Perego, vive nella città estense è accompagnata da forti emozioni. A dirlo proprio l'Arcivescovo, insediato a inizio giugno dell'anno scorso. Monsignor Perego ricorda che la Pasqua dà sempre segni di vita e di morte e così è anche nella diocesi ferrarese, dove è forte la denatalità ad esempio. Uno spopolamento che tocca afferrare la provincia sul quale gravano altre situazioni come la chiusura delle aziende e delle scuole e proprio da questo segnale negativo parte il messaggio pasquale dell'Arcivescovo che d'altro canto vuole infondere speranza e sottolineare il coraggio dei nostri sacerdoti, ovvero la promozione dell'aggregazione anche davanti alle difficoltà. Monsignor Perego in questa fase invoca anche l'aiuto della politica, ma sostiene che la Chiesa è all'altezza di percepire questi cambiamenti sociali. Anche le parrocchie sono in difficoltà, spesso anche economiche, come il pagamento delle bollette, ma per l'Arcivescovo le parrocchie ferraresi sono connesse tra di loro e si danno una mano. E proprio questa caratteristica tutta ferrarese della solidarietà ha colpito Monsignor Perego nei suoi primi dieci mesi nella città estense. Mettersi insieme tra famiglie soprattutto che ad esempio lottano spontaneamente insieme per salvare una scuola. Queste le parole dell'Arcivescovo il quale ha sottolineato la capacità dei ferraresi di fare condivisione per un obiettivo comune. In occasione degli auguri pasquali alla stampa locale e alla città è stato presentato il programma delle celebrazioni per il 500esimo anniversario della consacrazione e dedicazione della Basilica di Santa Maria in Vado di Ferrara, sede del Miracolo Eucaristico nel 1171. Il 18 aprile, quinto secolo della dedicazione dell'altare, alle 9.30, l'aggiornamento del clero vedrà la presenza di Monsignor Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo Metropolita di Bologna, che parlerà sul tema Chiesa ed Eucaristia. Il 6 maggio invece, all'ore 10.30, vi sarà il solenne pontificale presieduto da Monsignor Daniele Libanori, Vescovo Ausiliare di Roma e originario del Ferrarese. Data non a caso perché il 6 maggio ricorre anche il primo anniversario dell'ordinazione episcopale di Monsignor Perego. Infine, il 31 maggio alle ore 18, in occasione della solennità del Corpus Domini, la Santa Messa della Cattedrale Cittadina sarà presieduta dal Cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della CEI.